finge suor martina non per dire non per fare siamo pronti per il bunker pulpis andiamo attenzione una suona vuole rubare non è uno scherzo sarà napoletana questa suora probabilmente sì effettivamente parlando con voi madonna raga subito subito vai se c'è le mia capacità è mitico ragazzi preparatevi del lane bot veloce uno su mia madre preparatevi preparatevi ragazzi vi dico solo questo vogliono pusharmi ragazzi vogliono pushare la suora come si sta pulpis vabbè è sbroccata star ma raga ve lo giuro su mia madre è sbroccata ve lo giuro è fuori di testa va bene ragazzi dai la suora è pronta la suora paura non è a è un po' noioso questo giocatore guarda raga come l'ho lasciato da quello pronti ora vola ora vola eccola fermi arriva suor cappella ok la suora si sta facendo rispettare ragazzi direi che questa cosa è tanta roba actually ma rossa sto qua ma mi fa da cecchinata guarda balanced ok il pompa che fa più danno god raga ho i perc perfetti 20 bombe da suora ve li faccio ci proviamo raga rilanciata scusami fratellino sarà per la prossima volta ok allora vi dico l'mk7 cioè allora vi dico tipo ho visto che c'è anche la stinger vi ricordate oh fermi sei stato suor cappellizzato fra disinstalla il gioco forse è quel giorno e ti conviene go next ok andiamo dalla dalla cash ragazzi è il momento stavo dicendo vi ricordate la mitaglietta la stinger c'è la stinger mitica illegale quindi credo che attualmente è mk7 mitico e stinger siano le armi più più worth da prendere nel bunker anche prima del charge shotgun per quanto io lo ami questo era stunnatissimo dai ok 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 Grande errore TTV YouTube by the way Guarda che mi ha fatto spiegare Tutte le slurp Un fame fracico Dai 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 ti prego ti prego ti prego ti prego Un box Buonasera tenente Vuoi un po' di laseratina nel creluto Ok arrivederci Il muro troppo tardi The Nun in Ohio Però adesso non meglio The Nun Fidati Trust the process Nel chilling ragazzi Suor Cappello è pronto a vincere questo game Con 16 bomba Volete la benedizione di Suor Cappello oppure no? Immagina veramente perdere tre ore di tempo Perché Eccolo 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 ragazzi Pronti? Laserata tra 3 2 1 Grifato con l'albero Zì Però non gli ho fatto danno con l'albero Avete visto che non gli ho... L'ho craccato con l'albero Ma non mi ha dato il danno Ma c'è uno nel bush? Eccolo Suor Cappello è pronto a vincere quest'altro game Attenzione Ormai è questione di secondi Prima che Suor Cappello Vinca questo game Ma non lui prenderà la zipline Poteva essere un grandissimo errore Non lo prende? Ah è quasi intelligente Allora le ragazze Ok Ok questo è un traierdino Però ne facciamo così Fidatevi È la strat Che so Rompere l'albero Lo dico io Ah Voi se fai da poco così Ok Potete perdere le pedine di mazzo Lo sapete? Signorina Where do you think you're going? Non puoi scappare da Suor Cappella È proprio scientificamente provato Che non puoi scappare Non puoi Cioè proprio non puoi scappare È impossibile È impossibile Signori Suor Cappella Benedetto Un altro Apostolo Di Dio È stato ufficialmente sculacciato E riportato In sesto Anche oggi Il lavoro di Suor Cappella È stato compiuto con Grande successo Gigi in chat Gigi in chat La suora più forte di Fortnite Buona feva a tutti Salve 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 Buonasera 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 Dove trovate le MK7 Mi dico È nel bunker Samu Infatti attualmente Posso dire a mani basse Che tra tutte le armi Che ci sono nei bunker Le due più forti Secondo me Sono MK7 Come primo La CMG Stinger La seconda E la terza E il charge shotgun Palesemente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti